Siamo al Senato, stiamo aspettando il Premier Renzi che dovrà discutere con i senatori del Partito Democratico nel tentativo di ricompattarli sull'Italicum, sulla legge elettorale. Ma per Matteo Renzi e per la minoranza PD non c'è solo la resa dei conti sull'Italicum. La volontà del Premier è quella di andare spediti anche sulla riforma costituzionale prima dell'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Come se non bastasse il braccio di ferro con i senatori democratici sulle liste bloccate che ha impantanato la discussione a Palazzo Madama, c'è anche l'afferco Ferrati che ha lasciato il PD dopo aver denunciato brogli nelle primarie in Liguria facendo rialzare i venti di scissione. Ma la maggioranza del PD, i renziani, cosa ne pensano? È giusto riflettere su quello che è avvenuto pur dicendo con chiarezza che si tratta di un errore perché credo che Sergio Gofferatti doveva e deve ancora, sperando che possa rifletterci, continuare. E mentre nel partito c'è chi minimizza? È andato un partito dentro il partito? No, no, queste notizie. Ormai è scontro, questa volta decisivo, fra la vecchia guardia del partito e il velocista Renzi che addirittura preferisce incontrare prima Berlusconi che i suoi per parlare di riforme. E non è un caso che un padre fondatore del PD come Cofferatti, al quale sono state chieste le dimissioni dal Parlamento europeo perché reo di essere uscito dal partito, abbia preso di mira un renziano dell'ultima ora come Genaro Migliore. Cofferatti dice che sulle sue dimissioni da europarlamentare ha fatto riferimento anche a lei dicendo che si sarebbe dovuto dimettere essendo passato da Selle al partito democratico. Honestamente semmai qualcuno del mio ex partito l'avrebbe dovuto chiedere. Comunque mi pare che sia una richiesta sbagliata e che non sia venuta dai vertici del partito democratico. La minoranza del PD sta rallentando il processo delle riforme o no? Per ora non mi pare.